Musica Benvenuti appuntamento col TG10, l'apertura del telegiornale oggi la dedichiamo all'insedimento di nuovi otto magistrati al palazzo di giustizia di Gela, sette le donne. La cerimonia è stata preseduta dal presidente del tribunale Paolo Andrea Fiore e dal procuratore della Repubblica Lucia Lotti. Il palazzo di giustizia di Gela si tinge sempre più di rosa, oggi infatti si sono insediati otto nuovi magistrati, sette donne e un uomo. Prendono servizio al tribunale Flavia Strazzanti, Mari Camarino, Tiziana Landoni, Elena Childani, Valeria Vincenti e Virginio Dante Bernardi. In procura invece si sono insediati Eugenia Belmonte ed Elena Silvia Anna Schiavetta. La cerimonia che si svolta nell'aula magna del presidio giudiziario è stata preseduta dal presidente del tribunale Paolo Andrea Fiore e dal procuratore della Repubblica Lucia Lotti. Sono tutti giovani, mi sembrano bravi, motivati, cercheremo di darci da fare. Noi soffriamo un po' della carenza di magistrati che c'è stata negli ultimi mesi, quindi abbiamo un po' di processi che si sono accumulati, dobbiamo smaltire, secondo i piani ministeriali più recenti, tutto il nostro arretrato più anziano e ne abbiamo anche noi. Gli uffici giudiziari gelesi, come ormai si sa, sono caratterizzati da questo turnover. Arrivano sempre giovani, altri se ne vanno e ci auspichiamo che l'attività possa continuare con gli standard che abbiamo cercato di realizzare in questi anni. L'augurio per i giovani magistrati che arrivano è quello di realizzare al meglio l'impatto con l'attività lavorativa. Certamente questo a Gela è possibile, c'è un tessuto, c'è un'organizzazione che consente di operare bene, almeno cerchiamo, e quindi sarà per loro una bella palestra. Dopo che sono andati via a luglio sette magistrati, chiaramente aspettavamo questa data con tanta ansia perché è vero che si è andata avanti con tanti sacrifici, anche con la presidenza del tribunale che ha fatto sì che venissero a Gela due applicati e qui addirittura forse tre se non ricordo male, per cui si è andata avanti. Oggi per noi è un giorno importante, perché? Perché finalmente si viene a ricreare quel pool di magistrati che possa portare avanti le giuste esigenze di giustizia che i cittadini aspettano. Ma sentiamo con quale spirito i nuovi magistrati affronteranno la nuova esperienza a Gela. Con tantissima responsabilità, ma anche con tantissimo orgoglio di fare il lavoro che desideravo fare, in primo luogo in Sicilia, che è la mia terra, e poi specialmente nelle funzioni penali che erano quelle che proprio desideravo fare. Io sono molto contenta di iniziare qui a Gela perché penso di poter fare un'esperienza molto arricchente, sia dal punto di vista professionale che umano, proprio personale, anche proprio di crescita, e niente poi perché la Sicilia è stupenda. Il desiderio di svolgere al massimo delle nostre capacità e possibilità questo lavoro, e quindi di rendere il servizio giustizia. Io ho studiato fuori, vivo da... ho vissuto per 18 anni a Bologna. Cambiamo argomento ed ora parliamo della vicenda sfratti di chi ha occupato abusivamente gli alloggi popolari dell'OIACP a Gela. Oggi interviene il Presidente della Regione, Rosario Crocetta. L'Aggiunta regionale prevista per mercoledì della prossima settimana delibererà una modifica alla legge del 1992 approvata all'Assemblea regionale siciliana che consentirà di poter sanare la situazione per quei cittadini che si trovano ad occupare alloggi popolari senza formale assegnazione se questi hanno i titoli per poter essere beneficiati di un alloggio popolare. L'ho annunciato il Presidente della Regione siciliana, il gelese, Rosario Crocetta. Crocetta chiederà al Presidente Ardizione, alla Commissione competente e ai Capigruppo di prevedere la trattazione urgente in una fase economica e sociale preoccupante. Se gli occupanti di abitazioni popolari, anche se non formalmente assegnatari di case, hanno la possibilità, hanno diritto comunque a entrare negli elenchi di coloro che possono soffrire di un alloggio popolare perché indigenti, perché disoccupati, perché in condizioni gravi economiche e ci abitano da diversi anni, dovremmo dare una possibilità a queste persone di sanare la loro situazione, altrimenti si richiede un caos sociale incredibile in una fase anche molto difficile dell'economia. Anche perché quale sarebbe il vantaggio di sfruttare un indigente? Quello del fatto che poi magari attualmente paga l'abitazione con l'affitto e poi il Comune gli deve pagare l'alloggio perché in qualche posto lo deve collocare, ci sono bambini, ci sono minori, ci sono situazioni anche terribili dal punto di vista sociale. Quindi un invito a tutti di non accelerare una sorta di caos sociale che verrebbe pagato poi dalla tranquillità della città e anche da tante famiglie. Io la norma è chiaro, non la faccio per Gela, la faccio anche per Gela, ma la faccio per tutta la Sicilia, è chiaro che richiederò la cooperazione a tutti i gruppi politici parlamentari per poter fare rapidamente questa legge, però è chiaro che noi dobbiamo, nel frattempo chiamerò anche Sintra, per esempio il Consiglio Comunale, perché si adoperino anche a tranquillizzare un po' la vicenda, magari rallentando la mossa degli spatti in attesa che si faccia, si adotti questo disegno di legge. Continua la fase congressuale di Forza Italia, voluta dal coordinatore regionale, il senatore Enzo Gibbino. Si darà domani alle 10, presso la televentura di Galtanissetta, il congresso comunale del capologo Nisseno, convocato dal coordinatore provinciale Michele Mancuso, in concomitanza del quale si svolgerà un'assemblea provinciale del partito alla presenza di dirigenti provinciali, regionali e nazionali di Forza Italia. Oltre al coordinatore cittadino di Forza Italia, Caltanissetta, verranno inoltre eletti i 15 delegati nisseni al congresso provinciale, i coordinatori di Niscemi e Sommatino ed i loro relativi delegati. Agricoltura e turismo, prospettive di sviluppo del comprensorio, è il tema dell'incontro promosso dal Partito Democratico di Gela, che si è svolto oggi al Cineteatro Antitodo di Macchitella. Presente anche l'assessore regionale al turismo, Anthony Barbagallo. Quali le nuove strategie per il rilancio del turismo in tutto il territorio, con particolare riferimento a questo territorio? Occorre innanzitutto riprendere i nuovi distretti turistici, in questo momento abbiamo 27, occorre arrivare a 7-8, non più di questo numero, e Gela va inserito all'interno di questo itinerario Unesco nel rapporto da un lato con la Valle dei Templi e dall'altro lato con le città Tardobarocchie, quindi Noto, Ragusa, Scicli, quindi all'interno di questo percorso. Vanno poi valorizzati tutti gli altri percorsi turistici della regione siciliana, dove Gela può trovare senz'altro allocazione, come i sentieri naturalistici, le vie franchigene, e anche il rapporto con i comuni dei borghi più belli d'Italia, che sono all'interno della provincia di Caltanissetta, su terra, su tutti. A fare gli onori di casa, il deputato Giuseppe Arancio, il presidente del Consiglio Comunale Alessandrasia ed il capogruppo consigliere Enzo Cirignotta. In un momento storico delicatissimo anche per questa città, in cui l'industria ha dato qualche segnale di cedimento e non riesce più a rispondere alle esigenze occupazionali del territorio, l'agricoltura e il turismo possono rappresentare ancora una valida alternativa? Abbiamo un'opportunità grandissima che tra dicembre e gennaio dovrebbero iniziare le misure della programmazione europea. Questo territorio è stato nel passato poco informato, abbiamo la necessità di fornire intanto informazione, attraverso l'informazione poi partecipare e cercare di vincere più bandi possibili. In un momento storico come quello di oggi, in cui c'è la dismissione del pollo chimico industriale, ecco che sicuramente e in maniera anche urgente si deve intervenire anche a livello regionale, quindi grazie a questi strumenti finanziari si deve intervenire per puntare sullo sviluppo delle culture già esistenti, come anche la sperimentazione per esempio dell'olivo e anche sperimentare nuove culture che sono biologiche e che, come per esempio anche le culture fuori suolo, che non necessitano di acqua e che non inquinano il sottosuolo. Nel prossimo anno ci saranno delle opportunità importanti per le nostre aziende, partiranno i primi bandi per quanto riguarda il programma di sviluppo rurale 2014-2020 e quindi dico alle aziende che sono già insediate di utilizzare queste risorse finanziarie per migliorare le proprie infrastrutture, le proprie aziende per renderle anche compatibili con l'ambiente visto anche i SIC ZPS che esistono sul nostro territorio e ai giovani dico sfruttate queste risorse finanziarie per insediarvi, creare un posto di lavoro, creare un'azienda, un'azienda nuova e quindi dare la possibilità di sviluppo al nostro territorio e all'agricoltura. All'iniziativa di oggi, molto partecipata, sono intervenuti forze sociali, sindacali ed ordini professionali. La dignità dell'arreo ed il suo insedimento è il titolo del convegno che si svolgerà a Gela venerdì 27 novembre dalle 15.30 presso il Palazzo di Giustizia e sabato 28 novembre dalle 9.30 presso l'Aulamagna del liceo classico Eschilo. Gli incontri sono stati organizzati dalla Lions Club di Gela presieduto dall'Avvocato Antonio Gagliano in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Gela e saranno spunti di riflessione sul volume dell'Avvocato Giovanni Maria Flick dal titolo Elogio della Dignità. Conflitti a 5 stelle ieri sera al centro della puntata di Agora andata in onda sulla nostra emittente. Conflitti interni ma anche pubblici, tali da fare impallidire i partiti classici, il PD in primis, i quali sono campioni olimpionici in diatribe estenuanti che nulla portano come benefici alla collettività. Da quando il movimento pentastellato ha preso in mano la guida della città del Golfo, sono state solo frecciate al vetriolo che sono partite nei confronti della giunta grillina, proprio da quella base che ha sostenuto con forza la candidatura di Domenico Messinese a sindaco di Gela. D'altronde è inutile stare lì a nasconderlo, la vera opposizione all'attore giunta, l'opposizione più feroce e spietata, non la fanno quelli che per risultato elettorale dovrebbero stare all'opposizione, ma bensì buona parte del Movimento 5 Stelle gelese. Poi, con il documento stilato giovedì mattina dal gruppo consigliare dei pentastellati, con il quale si sanciva la netta divisione tra la linea programmatica dell'amministrazione comunale e le idee della base, lo strappo è stato davvero definitivo. Salvo poi qualche distinguo che si è prima materializzato con la dichiarazione del capogruppo consigliare dei 5 Stelle, Sara Cavallo, che si è nettamente dissociata da quel documento, e poi proprio dal dibattito che è scaturito ieri sera ad Agorà, dove oltre al conduttore hanno arricchito la puntata del rotocalco settimanale di approfondimento giornalistico di Canale 10, l'assessore dell'aggiunta messinese Francesco Salinitro e di consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Virginia Farruggia e Simone Morgana. A completare il parterre degli ospiti di Agorà anche il giornalista e blogger Eugenio Catania, fondatore del fortunato forum aperto su Facebook Gela Brainstorming. Alla trasmissione è poi intervenuta telefonicamente la stessa Sara Cavallo, capogruppo consigliare dei 5 Stelle, che ha chiarito in diretta la sua posizione e la situazione reale in cui versano i rapporti tra gruppo consigliare pentastellato e giunta 5 Stelle. Il tutto mentre la città brucia tra proteste vere ed alcune forse anche pilotate e problemi magari e certamente creati da altri, dove per altri si intende chi ha governato Gela negli ultimi 20 anni, ma che ora necessitano di essere affrontati e magari, perché no, anche risolti. Chi volesse rivedere questa interessante puntata di Agorà potrà farlo con la replica integrale che andrà in onda domani sera alle ore 21 su Canale 10, oppure attraverso i nostri indirizzi social, ossia il sito internet tg10.it ed il profilo Facebook di Canale 10. Agorà tornerà in diretta venerdì prossimo a partire dalle ore 21 con nuovi ospiti e nuovi argomenti che riguardano, come sempre, Gela ed i Gelesi. Confine fra il possibile e l'impossibile. Si tratta del tema della conferenza promossa dalla Rotary Club Gela, presieduto da Gualtiero Cataldo, prevista per domani alle 10.30 nei locali del Cineteatro Antidoto di Macchitella a Gela. Relazionerà Francesco Daina, referente distrettuale per l'Adea Nilsena. Nel corso dell'iniziativa sarà presentato il libro Un angelo con un'ala sola di Giacomo Domenico Bellina. Sarà presente l'editore Alfio Grasso. E in edicola il Corriere di Gela, settimanale indipendente di attualità politica, cultura e sport, diffusione comprensoriale, fondato e diretto da Rocco Cerro. Quel che non si dice sulle royalties e sul falso mistero che le circonda. Filippo Guzzardi, nel servizio d'apertura della prima pagina, cerca di fare un po' di chiarezza su un tema veramente dibattuto in questi ultimi anni in città. Lo stesso Guzzardi fa un'analisi della mozione presentata in Consiglio Comunale da Guido Siragusa. Nello Lombardo fa il resoconto delle sedute consigliari svoltesi in settimana, in particolare sull'ultima di giovedì sera con le ormai rituali proteste di lavoratori disoccupati e di altre categorie di manifestanti. Nella sua rubrica settimanale, politicamente scorretto, Giulio Cordaro dipinge con la sua solita ironia un disastroso quadro sul futuro della politica gelese. Il giornale ospita un'analisi attenta e competente del presidente dell'Ordine dei commercialisti Pino Nicoletti sulla paventata chiusura dell'Agenzia delle Entrate. All'interno altri articoli e servizi di attualità e cultura, firma di Federico Effer, Gianni Virgadaula, Filippo Franzone e Cinzia Sciagura. Da segnalare un servizio sulla manifestazione organizzata in settimana dalla Proloco per i detenuti di Balate con la partecipazione di Enrico Guarneri Litterio e Salvo Larosa. Ed infilo lo sport con i commenti di Orazio a comando sui campionati di calcio di eccellenza e promozione. La pagina degli annunci economici chiude come sempre il giornale da oggi in edicola. Ci fermiamo, linea alla regia per la pubblicità. Seconda parte del telegiornale che apriamo parlando della cerimonia Virgo Fidelis dei Carabinieri. L'arma dei Carabinieri ha celebrato oggi nella parrocchia San Giovanni Evangelista di Machitella Gela la sua celeste patrona, la Virgo Fidelis. Alla cerimonia hanno preso parte alle massime autorità civili e militari, i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri ed il sindaco Domenico Messinese erano presenti inoltre i genitori di alcuni militari dell'arma vittime del dovere. La Madonna Virgo Fidelis è stata nominata patrona dell'arma dei Carabinieri nel 1949 dell'allora Papa Pio XII in virtù della secolare tradizione dell'arma di fedeltà alla patria e alle istituzioni ed in analogia con il suo motto nei secoli fedele. Celebriamo la Virgo Fidelis, la Vergine fedele, la Madonna alla quale noi ci rivolgiamo e rivolgiamo le nostre preghiere nel ricordo dei caduti. Oggi celebriamo anche la giornata dell'orfano, quindi attraverso delle donazioni aiuteremo gli orfani dei militari dell'arma dei Carabinieri. È il 74esimo anniversario della battaglia di Culquabera in cui si consumò un eroico sacrificio da parte dei Carabinieri riuniti nel battaglione Carabinieri Zaptie nella battaglia d'Africa, in Africa orientale nel 1941, esattamente il 21 novembre. Maggiore, è un periodo in cui si parla dell'arma e attentati, come vivono i Carabinieri in questo momento? Beh, i nostri uomini sono impegnati nella sicurezza del territorio, qui a Gela, a Niscemi, a Butera, a Riesia e a Mazzarino. Per questo io ho voluto che i comandanti delle stazioni e i Carabinieri, una rappresentanza dei Carabinieri delle stazioni, fosse qui presenti questa mattina alla chiesa, alla parrocchia di San Giovanni Evangelista. Naturalmente ricordiamo quelli che non ci sono più, e guardiamo anche al futuro, soprattutto con un impegno ancora maggiore in questo momento, così difficile per la sicurezza del nostro Paese. Si darà oggi alle 20.30 al Teatro Comunale Eschilo di Gela il Musical The Wits, che sarà portato in scena dal Centro Giovanile Musica e Arte Cesma. Il biglietto d'ingresso sarà fornito a chi porterà nella chiesa Regina Pacis, nella piccola casa della misericordia, fino ad oggi, la spesa per chi è povero. Al via l'ottantunesima stagione concertistica gianese con la musica classica e lirica, organizzata dall'Associazione Amici della Musica Navarra, diretta dal maestro Crucevisso Ragona. Il concerto inaugurale della stagione si trarrà in occasione della festa di Santa Cecilia, appuntamento previsto per domani alle 19 al Palazzo Pignatelli, con il mezzo soprano Giuliana Consiglio ed Angelo Zarbo al pianoforte. Ed ora lo sport con il calcio, il punto in questo servizio. Non ripetere la prova di domenica scorsa contro la Libertas Regalmuto, perché altrimenti sarebbe un vero e proprio disastro, sbagliare umano, perseverare e diabolico. Il Gela domani gioca contro l'atletico Campofranco. Si tratta della seconda trasferta di fila, dopo quella di sette giorni fa, conclusesi in parità 2-2 e con il risultato agguantato proprio in zona Cesarini, dalla formazione bianco-azzurra. Un pareggio che non è piaciuto ai sostenitori gelesi, che a fine partita hanno contestato la truppa del tecnico Totò Brucculeri. Si giocava infatti contro una squadra che aveva fatto pochissimo. Era la partita ideale per dare un'accelerazione ed invece, come dicevamo, si è raggiunto solo un punticino e per giunta a pochi secondi dalla fine della contesa. In settimana l'allenatore gelese ha lavorato soprattutto nella testa dei propri giocatori. Ecco perché ripetere domani la prova di una settimana addietro sarebbe semplicemente assurdo. Il Gela non può permettersi simili passi falsi. All'orizzonte c'è il derby con il Campofranco. In Seni occupano una posizione di classifica deficitaria con 11 punti in compagnia del Curs Palermo e sono reduci dalla sconfitta per 2-0 subita a Mazzara. I biancazzurri non vincono da tre partite. L'ultimo successo risale il 25 ottobre scorso contro la Parmonval. Poi una sconfitta nel derby con il Mussomeli e due pareggi di fila, uno in casa con il Mazzara e l'altro a Grotte contro la Libertas. In una settimana i gelesi si sono regalati la semifinale di Coppa Italia dopo aver vinto ai rigori contro l'Alba Alcamo. Nel campionato di promozione è turno di riposo per l'Atletico Gela. Gioca invece in trasferta a Marina di Lagusa il Macchitella Nuovo Corso affidato alle cure del tecnico Mirko Fauciana. I biancorossi, che domenica scorsa hanno osservato una giornata di stop, si presenteranno all'appuntamento contro i Blei, forti dal successo 2-1 conseguito contro il Santa Croce. Prenderà il via il 15 dicembre la stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Comunale Eschilo di Gela. Protagonisti degli eventi saranno Gianni Nanfa, Sergio Vespertino, Ernesto Maria Ponte, Lasciate Libero lo Scarrozzo e Giuseppe Castiglia. Lavoramento per assistere a tutti gli spettacoli costa 50 euro, mentre il singolo spettacolo costa 15 euro. Il botteghino è aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30. Con la pagina dedicata alla stagione teatrale di Cabaret, chiudiamo l'informazione di oggi. Grazie per averci seguito, buona fine settimana, appuntamento a lunedì. Grazie per averci seguito, buona fine settimana, appuntamento a lunedì.